ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale eccoci con un'altra puntata di Alan Wake 2 allora siamo nel poet cinema e dobbiamo andare a per illustrare il salone del teatro vediamo un po cosa ci ci accade allora volevo vedere qua c'è una scatola da prendere che dov'è qua c'è una scatola un cassetto da aprire e c'è anche mi da un mi da anche un dovrebbe essere al piano di sopra chiudiamo le frecce vediamo un po se capisce niente queste frecce una da una parte una dall'altra però me lo da lo da dall'altro lato ragazzi eccolo qua ok quindi anche questo l'abbiamo compreso ragazzi vi ricordo che se volete supportarmi lo potete fare in maniera gratuita iscrivendovi al canale e lasciando anche un mi piace al video e anche questa che dov'è dove sarà non lo so credo sia sotto perché qua qua non vedo nulla ma questa era quella che mi dava anche chi mi ha seguito nell'altra puntata che usciera verso di trovare dove era allora qua andiamo nel e qua credo che abbiamo fatto un po tutto se non sbaglio c'è una porta chiusa di qua e di là dove ci sono le scale c'è un passaggio per andare alla cabina di proiezione ma non ho capito come ci si arriva la scena ha cambiato con la storia c'è un conto all'arroa che c'è un conto all'arroa che c'è avanti c'è un conto all'arroa che ci sono Chi è giocato un ruolo, Mr. Casey? Un ruolo che si tratta per te, il popolo che si tratta per te, il popolo che si tratta per la gloria della coltia, eh? Cosa che hai stupendo? Nightless Night, una clip del film di Lost Survived. Tu sarai vedere, Mr. Casey, e il Nightless Night, tu sarai finalmente vedere. Nightless Night was setting film. It played a role in this story. Cosa è questo? Oì, mortaci tu. Il Nightless Night was in the first day with my lamp. Is he playing me in this film? Cosa costruirai, è vero. I mi metto tu. Ora... Ma... 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 E allora è la forma. Ma... Dov'era la porta scusate Questa qua I was back out into the night The seedy alley away from prying eyes Was a good scene for dark deeds Qua c'è un salvataggio Posso lasciare qualcosa Comunque di queste granate Ok direi che Ok Eh un attimo Fammi prima guardare se c'è qualcosa Like that The plot changed the details of the world In the city trapped in eternal night They watch the film where the night never arrives Where the night hides in your mind 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 Where the night disguise Where the night hides in your mind Come here però no questa è sempre chiusa qualcuno ha chiesto a la morte da l'arrivo Ma come faccio ad andare sul tetto? Non vedo scale Non capisco come... I was close to finding the solution Eh, me la faccio vedere o...? I think they're going to want it to... I don't know... I don't think they're going to want it to... I don't think they're going to want it to... Get in the middle of that... I don't think they're going to want it to... I don't think they're going to want it... No, I don't know, I don't know... Grazie a tutti. 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 Non credo. Cosa mi sfugge, ragazzi, tanto per cambiare. Ecco, c'è una... Ma come ci vado lì? Allora, aspetta un po', eh. Non la veo vista. Grazie a tutti. Errattop, the dirty cops looked down in the city, their city. They had committed repulsive deeds to get there. They told themselves it was worth it Grazie a tutti Da che parte dobbiamo andare? Credo dall'altra parte Grazie a tutti Io prendo tutto poi Ok qua Qui c'è una freccia Comunque di qua Non penso ci sia altro Di andare dall'altra parte Dove c'è sta porta qua? E di nuovo A ver Ti saluto Vabbè ragazzi qua Ve lo lascio Abbiamo trovato un'altra mappa Qua non ci sia ancora un cassetto Credo non ci sia altro Lì c'è qualcosa Tanto per cambiare che non ho visto Chi è? Dica Conosciamo? No la salvatina io sposto un po' di roba ragazzi la salvatina 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 andiamo con la salute massima che male non fa secondo me ok scusi eh sono di passaggio ma ne abbiamo un altro là in fondo dove ci sono i riflettori dove vedevo le frecce infatti non non ma non 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 Oh No, 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 no. 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 Grazie. La scena qui ha cambiato. Ma diamo una salvata. Allora, io devo tornare dall'altra parte, però. Ma che di qua non posso salire. Chi è? Allora, così dobbiamo riportare. Non lo amare. E questo? No. No. Sono! E their nocione riusclico e biancone che piamo. Non ci sono! Noi, non ci sono. Noi, non ci sono! Ci è una attrazione. Come. ...d'lice di tutto. ...di alcuni problemi disperati. ... 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 Ok. Ok, abbiamo perso un po' di tempo con quelli lì che non ce n'era bisogno Non mi molla, non si qua Non mi molla Palle ragazzi Ma è che non so come Non mi molla Non mi molla, 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 non mi mo Ah, via che... You son of a bitch! Show yourself! Cray a mask in my hands! You're a clown in a maze! Cray a mask in my hands! I was back where I started. A loop within a loop. I had to keep going. I'm doing that. Cray a mask in my hands. You're a clown in a maze. I'm not the one wearing a mask yet, you moron! The casey in the story was losing it. I wasn't far behind. I was back at the beginning again. I had to keep going. Find a way to the murder site. I'm here, you son of a bitch! Hello? Hey! Show yourself! Who was it? Who said that? That's a real clever trick, asshole! It's gone. But I saw someone. Hey, ma dove è la porta, ragazzi? Che angoscia, mamma miau! I'm back. I'm feeling... Awful. What is this feeling? I died. Did I die? It got me. It ain't my mind. You are not what she says, man. Fuck, 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 fuck! I can't get it, man. Return. Return. I was writing. Return. Something went wrong. I've written it so many times and it always fails. It fails. I'm doing something wrong. I forget. What's wrong? Is there something wrong with me? Am I wrong somehow? Am I missing something? Skipping over some vital beat? All right, I have to write. Sure, of course. I mean, that's a given. That's a given. I have no departure. I have no departure. I have no departure. I have no departure. I was back at the beginning again. I had to keep going. Find a way to the murder site. I'm here, you son of a bitch. Show yourself. Oh, of course. Shut up. That's a real shot. Check out. I'm gone. Casey? Run. I'm here. Get all you fuckers. You got the wrong guy. I'm not Alex Casey. I only play him in the movies. He's just a fictional character. What? What's going on here? You don't have to kill me. You don't have to go get that knife as to have me. You can just give up and go back. Forget about the ritual sacrifice to open the way forward. The ritual sacrifice to open the way? No. Don't do it. You don't have to become a monster. Just leave the knife where it is. In the back. And go. A knife in the back? Everything about this was absurd. Our dialogue forced and ridiculous. In desperate need of another pass. But I'd play along to see where it took me. Let's forget about the knife. Don't go looking for the knife. Non c'è il coltello, infatti. Dov'è? Mamma mia ragazzi. Però che cosa assurdo è sto gioco. Cioè io capisco tutto ma è un... Non c'è il coltello, infatti è età e forte. Non c'è il coltello, non c'è il coltello. Non c'è il coltello. Non c'è il coltello. Oh no, oh no you don't! You'll be sorry! What the fuck? Continuiamo a girare come dei cretini allo stesso posto qua, vabbè As a fictional character in a story, you've fulfilled your purpose You brought the writer of the story here You can go now, Casey No, I'm not going anywhere before I get some answers How was I in that movie? Why does all this feel so familiar? Who the fuck are you? Who the fuck am I? No! Welcome to you, Alan Wake What the hell? This is the ritual to lead you on We're just one step away from your final destination, Mr. Wake But first, here's an unanswered mystery for you If Casey was fictional and you assumed his role as a detective Are you now fictional too? Whose story I live in, Mr. Wake The visions are getting under my skin Coming too close for comfort Not a separate layer, but mingling with my own reality in the dark place Wait Dead end This can't be right Did I miss something? The murder site What? The mask was the key 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 This is how I could help her Saga Anderson, listen I've been tricked Scratch wrote returned I tried to fix the story, but he stopped me before I reached the end He has it now, it's the key to escape What do you mean? Escape? Or Scratch? I need to stop him I need to stop him before he gets out He's after Alice I'm still trapped, but I'm making progress I wrote you in to be the story's hero Scratch made a horror story I need to match the genre It has to be dark, but the hero can break through Save her family Save us all Save her family? Are you talking about my family? Yes, whatever you're doing, it's working You just need to keep going If we cut out family and the horror story I was closer now Closer than ever before But there was no time to lose Everything was hanging in the balance I could still lose it all Parliament Tower I had to make it work this time I could stop Scratch Get the manuscript. Fix its ending. Fix its ending.